Dopo quasi due mesi ormai di lotta, finalmente abbiamo ottenuto un primo riscontro, un incontro con il governo. Domani avremo un tavolo tecnico alle ore 10, dove saremo presenti una rappresentanza delle varie regioni d'Italia che hanno aderito da agricoltori italiani. Una vittoria? No, ancora si è lontani dal traguardo che gli agricoltori d'Italia vogliono raggiungere per salvaguardare le loro aziende e il comparto agricolo. Tuttavia, il tavolo tecnico previsto domani a Roma è un tassello non affatto trascurabile in quella lotta che dal 22 gennaio vede i trattori in strada, con cartelli e slogan che racchiudono parte dell'amarezza di chi vive per la terra. Così, l'incontro al Ministero dell'Agricoltura con il sottosegretario Lapietra, con i tecnici e i delegati regionali del gruppo agricoltori italiani, vuole essere l'inizio di un dialogo per trovare soluzioni efficaci. E mentre tanti imprenditori agricoli presidiano ancora la Nomentana con i loro mezzi e la voglia di tornare a casa, gli altri faranno da tramite su quei punti alla base della loro lotta. Primo fa tutti i costi di produzione, la riforma dei CA, ossia dei centri di assistenza agricola, le incursioni devastanti dei cinghiali. Per la Calabria ci sarà il referente di agricoltori italiani Matteo Talarico, un tecnico calabrese e altri quattro tecnici del gruppo degli agricoltori. Speriamo domani di ottenere qualche piccolo risultato, ma la battaglia non finirà fino a quando non avremo nero su bianco quelle che sono le nostre richieste principali.